E' stato sottoscritto a Napoli presso la sede della regione Campania e alla presenza del governatore Vincenzo De Luca il protocollo d'intesa relativo al masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del litorale Cilento Sud. Presenti tutti i sindaci dei 13 comuni costieri interessati Ascea, Camerota, Casalvelino, Centola, Ispani, Monte Corice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni Appiro, San Mauro, Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati. Il protocollo è l'inizio di un percorso che dovrà favorire la realizzazione di un unico progetto per la riqualificazione del fronte mare del Cilento più a sud. Il primo atto è stato fatto con la firma del protocollo d'intesa. La prossima settimana ci riuniremo nuovamente con tutti quanti i sindaci della fascia costiera che abbiamo firmato il protocollo per stabilire come partire e la regione Campania offrirà il supporto tecnico per quanto riguarda la progettazione di ciò saranno le indicazioni che i sindaci forniranno. Inizia quindi il lavoro per pianificare un programma di interventi improntati sulla sostenibilità e il consolidamento della dotazione infrastrutturale dirette al miglioramento della sicurezza, all'accessibilità dei servizi, alla valorizzazione dell'identità culturale e turistica delle aree interessate. Un progetto da candidare successivamente a finanziamento. Sì, un progetto da mettere a finanziamento per poi poter aderire a tutte le varie misure che saranno attivate sia dalla regione ma anche a livello ministeriale.